E siamo a tre cari rettori, che giorno numero 8 di Naoya Matsumoto arriva al suo terzo Tankobon Come andrà avanti questa storia? 4.90 edizioni Star Comics, ne avevamo già parlato per i primi due volumi usciti in un cuffaretto sindaco C'è stato un video molto controverso sul canale che ha fatto veramente centinaia di migliaia di visualizzazioni Ma a parte questo, come sta andando avanti? E' esattamente come avevo detto insieme a Max Dall'Oglio E' un bel manga per ragazzi, un bello shonen, tanti power up Ma c'è un ma, c'è un ma gigantesco E riguarda proprio il suo nome, i Keiju Questi Keiju che non sono belli, sinceramente non sono niente di che Fino adesso si è visto veramente poco, tranne una ragazzina overpowered